Dovrai pagare molto di più di quanto pagherai oggi. Quindi, questa è la tua occasione per cambiare completamente la tua salute e la tua vita. Non volevo davvero far pagare per questo, ma ho costi di sito web e programmatori per mantenere attiva questa pagina per tutti, oltre ad avere processi legali in corso per aver rivelato tutto ciò. Quindi, devo addebitare una somma simbolica per coprire tutti questi costi, incluso pagare il mio avvocato. Dopo aver completato la tua registrazione, riceverai l'accesso direttamente tramite la tua email. Quindi compila correttamente i tuoi dati, e riceverai l'accesso alle frequenze di guarigione divina immediatamente. Quando cliccherai il pulsante qui sotto, sarai indirizzato alla nostra pagina di registrazione, dove inserirai i tuoi dati come telefono, email e nome. Questi dettagli sono necessari, affinché tu riceva il programma correttamente, e acceda ad esso, subito, direttamente sul tuo cellulare o computer. Stai tranquillo, la nostra pagina di registrazione è completamente sicura, poiché utilizziamo la tecnologia SSL, la stessa usata dalle grandi banche per proteggere i dati dei loro clienti. Inoltre, forniremo una garanzia di 7 giorni. Esatto, se entro 7 giorni non sentirai che i tuoi dolori sono scomparsi, la tua mente è più chiara, la tua vista è migliorata, il tuo sangue scorre meglio, stai dormendo bene, ti svegli energico e motivato. Se nulla di ciò che ho detto in questo video accade per te, puoi chiedere indietro i tuoi soldi, è quanto credo che le frequenze di guarigione divina cambieranno la tua vita. Se sei ancora incerto sull'assicurarti l'accesso alle frequenze di guarigione divina, voglio rendere la tua decisione ancora più facile. Quindi, ti darò altri due bonus completamente gratuiti. Il primo bonus, è la guida alla frequenza della prosperità. Con questa guida, scoprirai le frequenze che metteranno il tuo corpo in contatto con la ricchezza e la prosperità, facendoti attirare tutto ciò che desideri nella tua vita. Questa guida è utilizzata dai milionari per attirare ricchezza e mantenere il loro corpo e la mente sulla frequenza del denaro. Ti porterà dal fondo del baratro, a una vita di abbondanza, prosperità, denaro e felicità. La guida alla frequenza della prosperità, è venduta separatamente per 90 euro, ma solo oggi, la riceverai gratuitamente. Il secondo bonus è ciò che chiamiamo il protocollo della frequenza della giovinezza. Questa frequenza farà meraviglie per la tua autostima e bellezza. Ampiamente usata da Venere, la dea dell'amore, l'imperatrice che è riuscita a rimanere giovane per tutta la vita, e ha conquistato i cuori di molti uomini. Questa frequenza cambia le frequenze delle cellule del tuo corpo, facendo rinnovare la tua pelle, sparire le tue vecchie cellule, svanire i segni dell'età, e rinnoverà completamente la tua pelle e il tuo corpo, dall'interno verso l'esterno, facendoti tornare indietro nel tempo, come se fossi nel fiore dei tuoi 25 anni. Il protocollo della frequenza della giovinezza, è venduto separatamente per 90 euro, ma solo oggi, lo riceverai gratuitamente. Ora che sei a conoscenza di questa antica scoperta biblica, hai due percorsi da seguire. Il primo è il percorso su cui ti trovi ora, dipendente dall'industria farmaceutica che vuole solo vederti malato e venderti farmaci. Continuare in questa vita di dolore e sofferenza, con un'aspettativa di vita breve, vivendo ogni giorno con sofferenza in ogni parte del tuo corpo, e ammettiamolo, questo è il peggior percorso che potresti seguire. Il secondo percorso è assicurarti l'accesso alle frequenze di guarigione divina per soli 37 euro, e cambiare completamente la tua salute, senza farmaci, senza interventi chirurgici, e senza spendere una fortuna. Solo connettendoti a Dio, e cambiando completamente la tua vita, credo fermamente che Dio ti abbia portato qui oggi, affinché tu potessi conoscere questa scoperta, e guarire te stesso, o qualcuno che conosci. So che potresti sentirti insicuro, o avere paura che questo potrebbe non essere vero, dopotutto, ci sono così tante persone che sfruttano la gentilezza degli altri su internet. È normale che tu abbia questa incertezza, ma credimi, non ho motivo di fare questo, non ho motivo di fare nulla di sbagliato con te. Tutto ciò che ho detto qui è vero e nient'altro, quindi non perdere altro tempo, clicca il pulsante qui sotto e completa la tua registrazione ora, sai cosa è meglio per te. Ho finito qui, Dio ti benedica e a presto. Ho finito qui, Dio ti benedica e a presto. Ho finito qui, Dio ti benedica e a presto.